Trovate a Scampia, Martina Moscarella e Merisol Borrelli, le due ragazzine di Torre del Greco scomparse sabato sera. Dopo aver ricevuto una segnalazione, il padre di Martina si è fiondato a Scampia per recuperare la figlia e l'amica. Le due giovanissime sono state ascoltate dagli inquirenti e dal commissariato di polizia di Torre del Greco. Erano molto provate e stanche. Il PM della procura di Torre Annunziata ha disposto quindi l'apertura di un'inchiesta, l'ipotesi di reato e sequestro di persona. Si cercano ora tre uomini, due uomini con i quali le ragazzine hanno trascorso 16 ore e l'uomo che è armato ha ascoltato il padre fino al luogo del ritrovamento. Le due giovanissime verranno sottoposte ad indagini cliniche. A Torre del Greco era scomparsa una terza minorenne, una quindicenne di origine indiana, papà straniero e madre torrese. Il suo nome è Suprema Gadvi, la madre che aveva denunciato la sua scomparsa alla polizia attraverso Facebook ha annunciato invece il suo ritrovamento. Carmine Fiorillo, di 58 anni, di Sant'Arpino, è deceduto dopo essere precipitato nel vuoto dall'altezza di 20 metri dal campanile della Basilica di Sant'Ammaro a Grumo Nevano durante i festeggiamenti del Santo Patrono. L'uomo fratello del titolare di una ditta di fuochi d'artificio era salito sul campanile per smontare alcuni macchinari utilizzati giovedì scorso per il tradizionale incendio. Per cause ancora in corso di accertamento, Fiorillo, che si trovava in quel momento all'ultimo piano nel vano dove sono posizionate le campane, è precipitato. È stata investita e uccisa mentre attraversava la strada. È morta così una donna di 59 anni, di origine marocchine, ma residente da anni a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. La signora si trovava a circa 20 metri dalla casa del figlio quando è stata presa in pieno da una macchina guidata da un giovane anch'egli di Montecorvino. Violento l'impatto che ha causato la morte sul colpo della donna. Inutili i soccorsi. Era il 5 settembre del 2010, intorno alle 22.15, il sindaco di Pollica, in provincia di Salerno, Angelo Vassallo, come ogni sera rientrava a casa a bordo della sua automobile, inconsapevole che quella sera sarebbe stata l'ultima volta. Nove colpi d'arma da fuoco calibro 9 lo hanno raggiunto lungo il suo tragitto. Suo fratello è stato a ritrovare il corpo primo di vita. È morto così perforato da numerosi proiettili Angelo Vassallo. Le prime indagini parlavano di un omicidio di stampo camorristico e la brutalità con cui si era consumato il delitto avrebbe confermato tale ipotesi. La svolta arriva nel 2012 grazie alla testimonianza di un collaboratore di giustizia, il quale confermerebbe già un'ipotesi avanzata dagli inquirenti. che ad uccidere Vassallo è stato Umberto Damiani, detto il brasiliano per le sue origini, volto noto per attività di spaccio di stupefacenti, gestito appunto nella zona di Alciaroli. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come di consueto, prossimo appuntamento tra un'ora circa più tardi.